I studi di TV City, l'assessore Cinzia Mirabella, situazione critica sul fronte dei rifiuti, ieri un'importante riunione al Comune. Sì, anche ieri si è svolta un'importante riunione al Comune dove erano presenti il Sindaco, il Consigliere Mele delegato all'NU e i rappresentanti della ditta Butol. Riunione Fiume, durata diverse ore, dove i toni sono stati abbastanza accesi, abbastanza alti, perché ovviamente la problematica è molto sentita da diverso tempo, ma da Natale ad oggi si sono verificati una serie di episodi, una serie di disservizi che come politica non potevamo non ascoltare, e ovviamente lamentare la mancanza di un intervento forte da parte proprio della ditta, che continua a fare un rimbalzo di responsabilità, continua ad incolpare anche la politica di essere troppo morbida e vicina ai stessi dipendenti della ditta Butol. In questi giorni abbiamo appreso dei licenziamenti di alcuni dipendenti, la cosa ci ha molto rattrestato perché il nostro intento non è mai stato quello di colpevolizzare uno anziché un altro. Il nostro intento era soltanto, ed è ancora oggi, sempre quello di avere un servizio per la quale il Comune paga, per la quale i cittadini pagano, ed è ingiusto e veramente deprorevole quello che sta accadendo in questi giorni dove ovviamente abbiamo una parte di cittadini che continua con lodevole lavoro a differenziare e purtroppo si trova spesso che non ha il servizio porta a porta fornito. Abbiamo chiesto un intervento forte soprattutto per rimuovere il porta a porta per questi cittadini che si comportano in modo lodevole, a discapito invece dei cittadini che purtroppo continuano a conferire rifiuti con cumuli abusivi. Io ripeto, ognuno deve conferire secondo quelle che sono le norme, secondo quelle che sono le regole, non si può conferire in un mucchio di rifiuti, ognuno deve conferire al di fuori del proprio uscio di casa, non si può concepire di attraversare la strada e di fare il solito cumulo, quel cumulo è abusivo, l'operatore non ha la possibilità di poter scendere qual è la busta della plastica, qual è la busta dell'umido, quindi molte volte quel cumulo diventa abusivo anche se ci sono buste regolarmente differenziate, che però mischiate ad altre che non lo sono altrettanto, purtroppo rendono tutto il cumulo abusivo. Io invito i cittadini ad avere ancora di pazienza, ancora un po' di pazienza, perché purtroppo in questi giorni ci apprestiamo a vivere questo sciopero che durerà ovviamente fino al 17, dal 17 in poi ci auguriamo di avere un clima più sereno, nei prossimi giorni avremo anche un incontro con i sindacati che rappresentano appunto i lavoratori della ditta Butol, che la politica ricordo non ha potere di poter licenziare nessuna persona, e quindi è molto triste leggere queste cose perché anche i giornali che comunque sono firmati da cittadini torresi dovrebbero sentire la rabbia che sentiamo noi politici, il sindaco, il consigliere Mele, io stessa e tutta la maggioranza, che ogni giorno si impegna per poter trovare un risultato. Invece leggere stamattina dei titoli che appunto incolpavano la politica di queste decisioni è veramente assurdo e anche di basso livello direi. Ci sono tuttavia però tante inadempienze, si chiede ai cittadini sempre di collaborare, ma la città è sempre sporca. Sì, ma infatti noi per questo i toni sono stati molto alti ieri perché ovviamente noi siamo sempre stati molto chiari sia con la cittadinanza ma con la stessa ditta, tant'è vero che quello che abbiamo detto l'abbiamo anche messo per iscritto a tutti gli organi competenti, non ci siamo mai tirati indietro e non ci siamo mai spaventati di nulla. Noi lavoriamo nella correttezza e nella lealtà e questo ci spinge ad andare ancora avanti. Tant'è vero che diverse sanzioni sono state applicate con cifre abbastanza alte che fino ad oggi noi non avevamo avuto modo di percepire. Invece proprio il nostro impegno anche proprio pratico nel verificare che ogni giorno quello che era il disservizio sia stato notificato ha portato comunque a una cifra notevole che sicuramente visto purtroppo lo scarso numero di risorse dell'ufficio comunale non sarebbe stato possibile. Secondo molti il sistema del porta a porta si è rivelato tuttavia un sistema fallimentare in questa città. Allora l'abbiamo sempre detto e non ci siamo mai tirati indietro sulla difficoltà di gestire un porta a porta in alcune zone della città. Il porta a porta funziona per la periferia, funziona per le piccole abitazioni ha difficoltà per altre come via Castelluccio, come ad esempio intorno al palazzo Baronale dove ovviamente c'è un folto numero di cittadini in un raggio di azioni veramente piccolo quindi ovviamente dove ci sono troppe persone è complicato perché ovviamente necessita di spazi idoni per poter depositare. Sicuramente nel piano industriale questa cosa va modificata quindi questa cosa deve essere sicuramente risolta in un modo differente perché è un piano industriale che ha delle carenze carenze che ovviamente vengono sperimentate perché fino ad oggi il porta a porta a torre non c'era mai stato noi ci siamo adeguati ovviamente a un modello che è anche nelle altre città sempre funzionato quindi occorreva fare questo riscatto, occorreva anche adeguare le mentalità un po' restie, un porta a porta ovviamente ci sono delle migliorie che andranno fatte però se non iniziavamo non ci saremmo manco accorti di cosa poteva funzionare e cosa meno Grazie a tutti